Frequento internet molto molto assiduamente, da molto tempo tra l'altro e ormai internet è diventato un insostituibile strumento sia di lavoro che di divertimento per me. Insomma per me è stata una delle più grosse innovazioni da quando sono nato, ecco, vedere l'arrivo di internet e quindi ormai non ne posso più fare a meno. Il computer può essere un amico se ti aiuta a lavorare, diventa un grande nemico quando devi configurare o quando c'è qualche scheda che non vuole saperne di andare o quando ti trasformi tu in tecnico dell'assistenza, allora lei diventa un grande nemico e nel mio caso non è capitato di avere degli inizi di esaurimento nervoso a causa dei computer che mi facevano disperare, però generalmente poi quando lo addomestichi diventa un amico.